Adesso faremo una parola di uno scherzo, una bottata, in modo di dire il trentesimo racconto. Vino bianco e vino nero per caparlo, come si fa? No, è uno scherzo. Se noi mischiamo il vino bianco e il vino nero, io credo che nessuno al mondo è capace di ricaparlo, di sceglierlo e rimetterlo il bianco per sé e il nero da sé, no? Il vino nero, il vino rosso, come si dice? È uno scherzo questo. Il trentesimo racconto, vino bianco e vino nero per caparlo, come si può fare? Dunque questa sera la data, dopo dirò, la data è 8.11.1988. Allora, come si fa? Risposta, è uno scherzo amichevole, come si fa per caparlo? E' una parola, come si fa? Basta beverlo, no? E basta beverlo e dopo il bianco si sa, si piscia bianco, no? Questo è uno scherzo. Ecco, passa così.